Facciamo entrare il nostro tronino, applausi, 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 applausi. Ed ecco che entrano Natalina e Nataroppa. Applausi, applausi, applausi. Vediamo che cosa è successo oggi. E a te non mi saluti? Non mi saluti? Guarda o no, non mi parte la sua donna, andiamo avanti. Ed ecco che cosa è successo, che è successo? Fammi sentire Natalina. Io sono la Maria della Cala, ho sentito il namurato mister. Ed ecco che... Bella, cara, fino ad ora noi stiamo corteggiando, quando è tuo quando se ne vada sopra il trono? E la mano se è una roba, c'è ti fatto nulla dei capi! E mi? E lo vado a mananzi? E mi raccomandò qua? Mi raccomandò qua? E non mi piace? Non mi piace? Non mi piace perché da me le miei città è che la mia mi piace? Cosa ne pensi più delle due? Allora Pasquale, Pasquale, cosa pensi di Natalina e Nataloffa? Ma... Sono bello, poff. Non mi devo dare un saggio consiglio. Sarebbe? Visto che stiamo in un ambiente un po' particolare, non riesco a inquadrare la parte più... No, no, non si può riferire. Ah, è il cannello, poffè. Che non ti caffè, ma no. Natalina, Natalino, fanno un fila di farmaccia. Natalina, Natalina, fanno un fila di parlare. È carino. Continua Pasquale, continua. Impara le emozioni. Bravo, sei tu, carino. Cioè, non so più. E' da parte. Guarda che ti mi sta liscia. Carina, carina, cosa ti sta dicendo, carina? Dai, mi sei un po' da qui. Ma ci va più rubietta, dopo finisci. Carina, carina. Già, io sinceramente non ho seguito io, no, ma tra tutti i primi sono scesati. Ma ci sei tu, che la dovrebbe. E non vai là. Vieni, 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 vieni. No, vieni, 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 vieni. Ma che va, vieni, 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 vieni. Ma che voglia di vedere. Ma scusa Pasquale, con il cellulare nel studio. No, Pasquale, no. Ragazze, vedete? Pasquale, io ho una canacola, con il carico, con il carico, con il carico. E questo, con il carico. E questo, che ha fatto? Che sono due loro, tutte e due. E questo, non dicevi? Perché sono davanti di Carina? Questo è una carina. E l'uomo è 60 anni. Questo fa un mignoto proprio. Mi scusate, tu così. Tu così, tu così, tu così, tu così. Ma vai a dire la cosa. Ma vai a dire la caglione. E se c'è la canacola, la c'è la canacola, la c'è la canacola. Ah no, ti ho messo per tutto, la canacola. Tu fai doia. Io, che ci sono i momessi. Ma c'è qualche prova, ma c'è qualche prova. Pasquale, io non come è. Facciamolene, la canacola, la canacola, la canacola. Non, no, no, tu chi sei? Tu chi sei? Io sono Veronica. Veronica, Veronica, che cosa fai? Il tronista deve restare qua. Io, il tronista deve essere qua. Pensa qui, ma tu? Il Dio è il Dio è il Dio è il Dio! Il Dio è il Dio!